Penta la botta da lì, il portiere che con lo sguardo ha accompagnato il vetrino. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. 1-0 e adesso vedremo se cambierà la partita. Possiamo apprezzare meglio qui l'azione del gol. Ha mandato al bar, è il proprio marco. Con il movimento dei compagni. Occasione importante per pareggiare. La mette dentro e adesso è tutto in varità. Maximen. San Maximen. Apprezzabile questo pallone. È arrivato il gol che li porta avanti. Interrompe l'azione e recupera la palla. Gabriel Jesus. Perde la palla sul contrasto. Occhio a Gabriel Jesus. Palla in rete, vantaggio che aumenta. Restano due gol di margine. Sante tra le linee. Riceve palla, posizione interessante. Grande parata di Magnon. Possesso palla, lo confermano anche i numeri. Stanno cercando il dominio del gioco. La risposta ma non è finita. Sare lungo l'auto. Prova un compagno libero in aria. E c'è il gol. Non si fermano più. Complicata per la difesa. Il portiere, poi il palo. L'arbitro si fida, ovviamente. C'è spazio, occasione. Palla in rete. Il pallonetto morbido. Freddissimo sotto porta. Ed ecco, alza via il pallone. Troppo molle qui il difensore. Può far male da lì. Hanno segnato e dunque torna l'equilibrio assoluto. Questa rete può... Provano a farsi avanti. Da un'occhiata in mezzo può spedirla in aria. Supera facilmente il difensore. Gabriel Jesus. E il pallone entra. Ha messo dentro il gol che può valere la... Grisman evita l'intervento del difensore. Che dubbo nel portiere. Vediamo cosa inventa ora. Palla che finisce in rete. E per l'ora adesso il momento tanto atteso si avvicina ulteriormente. Manca poco alla promozione. I tifosi non vedono l'ora. Pierre Carivillac... Samax. Tifosi non vedo l'ora. Palla che finisce in rete. Grazie a tutti.